Due sportivi, due ragazzi, per il calcio sono pazzi, son portiere e attaccante, Olly e Benji, due speranze, loro vogliono sfondare e campioni diventare, per poter così giocare nella squadra nazionale. Nella squadra nazionale, Olly si allena tirando i rigori, Benji si allena parando i rigori, sembrano partite e allenamenti, Santa è la classe dei suoi contendenti, Olly rincorre ogni pallone, Benji lo segue con attenzione, è questa sfida senza vincenti, fai due ragazzi felici e contenti. Olly si allena tirando i rigori, Benji si allena parando i rigori, sembrano partite e allenamenti, Santa è la classe dei suoi contendenti, Olly rincorre ogni pallone, Benji lo segue con attenzione, e questa sfida senza vincenti. Due sportivi, due ragazzi, per il calcio sono pazzi, son portiere e attaccante, Olly e Benji due speranze, loro vogliono sfondare, e campioni diventare, per poter così giocare, nella squadra nazionale. Nella squadra nazionale, Olly si allena tirando i rigori, Benji si allena parando i rigori, sembrano partite e allenamenti, Santa è la classe dei suoi contendenti, Olly rincorre ogni pallone.